ore 8 e 45 direzione in terra la lanza che significa significa a terra e sopra la vicina la lanza che è il posto dove ci stanno tutti i portaioli i marinai portano il pesce lo espongono e coi polpi li sbattono sulle petre le petre che sono i scogli e la lanza che sono i scogli i famosi sbattitori di polpi di polpi tutto questo per intenerire la carne e fare in modo che il polpo diventi tenero visto che sono tutti i polpi non abbattuti non congelati decongelati i polpi freschi non 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 Than me Making fallen tied That's why I wanted me Did you film in November 8